Musica Ciao ragazzi come benvenuti e bentornati su un nuovo video di questo canale Oggi ragazzi siamo tornati qui in un video davvero davvero incredibile come avete visto dal titolo e dalla miniatura Quest'oggi ragazzi sono qui per mostrarvi il pacchetto più bello, più epico di sempre di FIFA Tengo a precisare che questo video l'ho visto prima da Talox che l'ha caricato ieri sul suo canale Dunque link in descrizione del suo canale per andare a vedere anche il suo video se non lo conoscete E detto ciò direi di partire con il video Come potete vedere questo youtuber si chiama JMX e sta facendo un normalissimo pack opening Fino a quando decide di riscattare il pacchetto da 44 giocatori IF del FUT Champions Come potete vedere è in compagnia di altri suoi amici youtuber e appena lo apre succede davvero l'incredibile Una cosa mai vista fino ad oggi su FIFA 17 Tengo a precisare che secondo me non è falso E come potete vedere, come sto vedendo io questo momento e come state vedendo voi Esce una leggenda nel pacchetto da 44 giocatori IF Ma attenzione ragazzi perché non è finita qui Oltre ad aver trovato il portiere Van der Sar Attenzione, guardate Qualcosa di assurdo ha trovato oltre a Van der Sar anche Ronaldo 95 striker E poi tutta un'altra carrellata di giocatori davvero assurdi 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 Mamma mia questo qua come ho detto già prima secondo me è il pacchetto più bello, più epico della storia di FIFA secondo me fino adesso L'unico peccato è che tutti questi giocatori, tutti questi 44 giocatori IF non può venderli perché sono non scambiabili Ma ragazzi miei quando hai Ronaldo 95 striker e Van der Sar 89 leggenda in una squadra sei davvero a posto Perché mamma mia è un qualcosa davvero di assurdo Assurdo Secondo me questo video qua non è assolutamente falso per il semplice motivo che ci ha fatto vedere che prima esce il workout poi ci esce la leggenda E poi successivamente fa vedere che skipando escono tutti questi giocatori Dunque secondo me non è un pacchetto falso almeno lo spero, spero di non aver detto una cavolata anche se secondo me non è così Fatemi sapere con un commento se secondo voi è falso o no Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, passa a stare i social che trovate come sempre nella descrizione importantissimi E tanto ciò, qui Rebembe è tutto, noi ci vi chiamo ad un prossimo video Sayonara Dove venite? Mostrate al mondo che cosa sentite? A cielo bandiere, da azzurro vestite Festa è la felicità, un giorno all'improvviso Grazie a tutti